Via Calabria a Caltanissetta, poco dopo le 14 di oggi un giovane ha iniziato a discutere all'interno della propria abitazione, poi lancio di oggetti dalla finestra, prima un vaso con della terra che finisce mille pezzi di impatto sull'asfalto, poi alcune sedie, una discussione, le parole che risuonano in tutto il quartiere vicini timidamente che si affacciano, chi dalle attività commerciali, chi dalle abitazioni, qualche studente che si attarda dall'uscita della scuola, l'accelera il passo e infine l'intervento di due volanti e la squadra mobile. Proprio grazie all'intervento della polizia è stato possibile placare gli animi e bloccare il traffico come azione di prevenzione per eventuali epiloghi. Il giovane uomo sulla Trentina pare essersi affidato agli agenti ed avere riconosciuto anche di avere vissuto un momento particolarmente stressante, poi gli asseguiti di sua volontà per farsi aiutare dal personale sanitario. Lo stress colpisce 9 italiani su 10, sia adulti che bambini, e non sempre si riesce a riconoscere in tempo le cause per comprendere come affrontarlo. Tra le piattaforme online che possono dare un sostegno c'è Parent Smile, la prima piattaforma europea per il supporto medico e il benessere a domicilio di tutta la famiglia. Offre consulenze utili anche attraverso un videoconsulto con un professionista specializzato accuratamente selezionato. Ma come riconoscere lo stress? Ognuno di noi di fronte a un evento stressante di qualsiasi tipologia in un primo momento ha delle reazioni che possono essere emotive, fisiologiche, comportamentali, cognitive. Solo in una seconda fase, nella più parte dei casi, riesce a riequilibrarsi. In questo ci si può riconoscere, ci si può anche vedere alle reazioni emotive che possono essere tristezza, incapacità a godere di momenti piacevoli e gioiosi, nervosismo, incapacità anche a gestire e sopportare le frustrazioni. Circa l'85% degli italiani ha sofferto di disturbi legati allo stress. Farsi sostenere in un percorso che consenta di superare questa fase è la soluzione.